È bella questa cosa che noi non ci conosciamo, ci hanno messo a parlare di una cosa così importante, di vario tra ricchezza e povertà, come fama risolve noi? Sì. Tra l'altro dal punto di vista di due morti di fame verrà risolto questo discorso qua. Due morti di fame, il caccio è morti di fame, parla per te. Io vengo da una famiglia benestante che mi mantiene. Io credo che a partir di un milione d'euros tenia che avere penalizzazioni per cada milione che ganarai più che ti mandarono un povere a tua casa. A lo mejor, quando avessi tre nini indios in un salone, a lo mejor, io credo che stai bene di dinero, due piloti somalii chupandoti la wifi. Ma quando avessi più grandi e stai meando in tuo cuore, quanti più vuoi? Angelina Jolie, Brad Pitt, se non avete abbastanza, tommi più. per buttare là due numeri per fare i finti coltivi questo è un dato vero l'ho letto tu sai che l'1% della popolazione mondiale detiene più ricchezza di tutti gli altri tutto il restante 99% 1% ricordiamo tu fai parte sì ovviamente sono sparcheggiato in quarta fila ora sono quattro gatti perché voglio dire sono quanti 700 mila sono 7 miliardi praticamente è come una città li prendiamo li mettiamo tutti in un'unica città fatta solo di miliardari solo di ricchi è una città di merda io mi faccio tutti i soldi fino a un certo punto perché Enrico va al bar con il suo tablet a fare trading online c'è il caffè al barista che però sta facendo trading online anche lui allora prende un taxi per cercare un altro il taxi non parte perché il taxista sta facendo trading online quindi i gesti non ci stanno più quando sei molto tu devi fare 10 miliardi quindi devi fare 10 miliardi devi fare 10 miliardi e anche se se si chiuderebbe in questo caso facciamo un'unica e il città si chiuderebbe perché non c'è il città il città il città il città il città Si. Ci sono i marchi, per esempio. Se volessi un uomo, facci uno. Quando c'è una rispondazione di hash tag, per esempio, devi portarti. Oh, i porti. E anche per fare il freddo, perché se fosse un uomo, non ti portate. Ti portate anche. Tu portate anche. Tu portate anche uno. So I read this crazy statistic of how there are 42 people in the world Yes Who have the same amount of wealth as 3 billion of the poorest people in the world Makes sense What if we just kill those 42 people? Why do we have to kill them? Can't we just take their money? So are we killing people or just taking the money? Just kill them Kill them, take the money Okay I'm in Yes Yes Amen Insomma, alla fine, abbiamo risolto o non abbiamo risolto, secondo te? Secondo me, sì Cioè, abbiamo risolto Una certezza ce l'abbiamo Che rimaneremo due morti di fame No, ancora, so benestante Come non lo devo dire Che rimaneremo due morti di fame Come non lo devo dire Grazie a tutti